I volontari della protezione civile della regione toscana saranno presenti il 13 ottobre in 18 piazze sparse su tutto il territorio regionale per l'edizione 2018 della campagna Io non rischio, coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile. Come comportarsi in caso di terremoti, alluvioni e calamità naturali, ma anche come essere pronti a questi eventi. Su questo i volontari appositamente formati informeranno i cittadini. La domanda del cittadino più frequente è quella di che cosa deve fare nel momento che c'è un evento, come deve comportarsi, dove deve recarsi, quale misure prendere e come poter sapere che cosa sta succedendo intorno a lui. Queste sono tutte domande alle quali gli enti locali e la regione devono dare delle risposte e l'idea di Honor Risk è quella appunto di diffondere questa cultura dell'autoprotezione proprio attraverso il volontariato che le associazioni sono parimente diffuse come le comunità su tutto il territorio. I volontari saranno presenti in piazze selezionate di tutte le province toscane, ad eccezione di Siena, dove l'evento si svolgerà in un altro momento. Per conoscerle basta consultare la pagina web Io non rischio sul sito della Protezione Civile, perché spesso un semplice accorgimento è sufficiente a evitare grandi pericoli.